I want to buy a shirt. Voglio comprare una camicia. How much does this cost? Quanto costa questo? Do you have this in a different color? Ce l'hai in un colore diverso. Can I pay with cash? Posso pagare in contanti. Where is the nearest mall? Dov'è il centro commerciale più vicino? What time does the store close? A che ora chiude il negozio? I need a shopping bag, please. Mi serve una borsa della spesa, per favore. Is there a sale going on? C'è una vendita in corso. Can I try this on? Posso provarlo. Where can I find shoes? Dove posso trovare le scarpe? Do you have a smaller size? Hai una taglia più piccola. Come posso restituire questo? Can I get a receipt, please? Posso avere una ricevuta, per favore? Is there a dressing room? C'è uno spogliatoio. Sto solo navigando, grazie. Sto solo navigando, grazie. C'è uno spogliatoio. Forza a attrata, grazie. - Vanessa.